Sembrava quasi un film, non siamo riusciti a mettere a fuoco quello che è successo. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti in Piazza Zucchi nel quartiere di Saione dove una tentata rapina è stata sventata anche grazie al contributo dei commercianti e residenti della zona. Il rapinatore è entrato in azione ieri pomeriggio attorno alle 15.30 quando ha fatto irruzione in un negozio di casalinghi armato di pistola, poi risultata giocattolo. Ce l'ha puntata contro, cercando di minacciarci, metterci paura, però non l'abbiamo lasciato entrare proprio perché c'era la figlia della titolare che ha cinque anni dietro di me. Ne è nata così una colluttazione. È avvenuta principalmente all'esterno del negozio, insieme al marito, poi sono intervenuta a dargli una mano perché lo stava stringendo, non respirava e poi si è scagliato anche contro di me. Fondamentale a questo punto l'intervento dei cittadini. Eravamo in ufficio, si è precipitata una signora con due o tre bambini gridando chiamate la polizia che si sta consumando una rapina. Il malvivente ha anche tentato la fuga ma è stato rincorso e fermato. L'abbiamo bloccato, abbiamo cercato di calmarlo. È stato così trattenuto sino all'arrivo degli agenti della questura di Arezzo in manette finito un 27enne di origini napoletane con precedenti penali. C'è stata veramente una coesione, una condivisione, una solidarietà da parte dei residenti e dei commercianti che in quel momento si trovavano. E questo è un altro punto, una dimostrazione di civiltà di questo quartiere dove le differenze non sono una barriera ma le differenze rappresentano un valore.